Alvia, oggi i play-off di Girone. Pescara in campo tra una settimana, giovedì 18 maggio, quando scatterà la fase nazionale. Biancazzurri in trasferta, lunedì 22 il ritorno all'Adriatico. Avversario tramite sorteggio, del fino testo di serie, due risultati su tre a disposizione. Niente supplementari, per conoscere il rivale bisognerà aspettare lunedì dopo la disputa del secondo turno preliminare, in programma domenica. Sempre nella giornata di lunedì 15 maggio verranno ufficializzati gli orari delle partite del primo turno della fase nazionale, ovvero degli ottavi. Naturalmente c'è grande attesa. Zeman ha recuperato tutti gli effettivi. Stanno meglio sia per la canica e in grosso. Dunque fase decisiva alla gran completo. Scelte forse già fatte. I dubbi, ma ci sono ancora sette giorni per fare le ultime valutazioni, sono legati ai ruoli di terzino destro e di esterno alto a sinistra. Cancellotti in vantaggio su Crescenzi, l'attacco delle Monache in Lizza con Colai e De Sogus. Intanto, tra pochissimo per Zeman, saranno 76 primavere. Un vero esempio. Sotto questo profilo il Boemo mette tutti d'accordo. Per il resto ha sempre diviso. Prendere o lasciare. Mai una via di mezzo. Sul terreno di gioco e fuori, nelle veste di picconatore del sistema. Il suo tipo di calcio è un unicum. Non esistono imitazioni. Un calcio che ha fatto discutere, ma anche e soprattutto entusiasmare. Di certo, Zeman lascia sempre il segno.